Buongiorno, gli occhi della politica italiana sono puntati su Atene a domenica quando si terrà il referendum indetto dal governo greco. Lo dicevi prima da studio, sono diversi gli esponenti politici che voleranno ad Atene, tra questi oltre a SEL, oltre a alcuni esponenti della minoranza PD, anche il Movimento 5 Stelle. Una delegazione guidata da Beppe Grillo sarà ad Atene, noi siamo qui con Maglio Di Stefano del Movimento 5 Stelle, anche lei sarà ad Atene. Perché il Movimento 5 Stelle va ad Atene se poi avete posizioni così distanti in Europa rispetto a Tsipras? Andiamo ad Atene principalmente per sostenere il popolo greco in un momento in cui il fallimento europeo è evidente in Grecia, ovvero un popolo abbandonato a se stesso con la Troica, quindi questo organo sovranazionale che chiede di tagliare ancora di più sul benessere del popolo greco, che oggi è i minimi storici tra l'altro. Noi non abbiamo tanto in diverso da Tsipras, noi abbiamo una cosa in questo caso in comune, che è la lotta all'austerità. Tsipras, per spiegarlo agli italiani, sta chiedendo ai greci se vogliono essere ancora di più vessati da questa struttura europea basata sulle banche. Il popolo greco si esprimerà su questo, è il motivo per il quale anche in Italia noi abbiamo fatto una proposta di referendum per stare o meno nell'euro, perché crediamo che il popolo abbia il diritto di scegliere se rimanere in una struttura che lo schiaccia o se liberarsi da queste catene europee e creare la sua politica monetaria, una politica che sia in grado di fargli investire soldi nella ripresa dell'economia, nel benessere. Oggi in Grecia, a me il dato preoccupante, in Grecia oggi chi va in ospedale non trova le medicine e allora si può accettare questo tipo di situazione? Io credo di no. Quindi noi andiamo in Grecia per dire al popolo greco abbiate il coraggio di riprendervi i vostri futuri in mano e credo che questo sia un passaggio fondamentale e dalla dichiarazione di Schumann che fondò l'Europa nel 1950 finalmente oggi si assista al primo referendum di questo tipo, dove la gente si può esprimere davvero su quello che vuole da questa Europa, che è un'Europa che non ci appartiene più, appartiene alle banche e basta. Torniamo un attimo alla politica di casa nostra. Ieri il Tribunale di Napoli ha sospeso la sospensione di De Luca, vuol dire che il nuovo governatore Campano è nel pieno delle sue funzioni, almeno fino a quando non si giudicherà nel merito. Voi però, proprio per questo motivo, non sospendete la vostra battaglia? Ma non la sospendevo perché la follia del caso Campano è di un presidente del Consiglio, Renzi, che è anche segretario del Partito Democratico di De Luca, che ha scelto, nonostante fosse già condannato in primo grado e con due processi sulle spalle, di mettere questo personaggio candidato presidente di regione in Campania. L'ha letto con le primarie. Poteva semplicemente, come si fa nel Movimento 5 Stelle, con un codice etico, non permettere la candidatura, perché è un condannato. E questo ha fatto sprofondare la Campania in una causa istituzionale in cui non governa nessuno in questo momento. E se fra un mese la Corte Costituzionale desse ragione a noi, la Severino si applicherebbe di nuovo e decaderebbe di nuovo il presidente di regione Campania. Io credo che i Campani si meritano molto di meglio di quello che Renzi gli ha consegnato. Ieri, tra l'altro, sentivamo in televisione De Luca delirare essere un nuovo partigiano, in realtà semplicemente un condannato che vuole governare una regione. La prossima settimana in Senato si riapre la partita delle riforme. Quale sarà il vostro ruolo? Noi lotteremo come abbiamo fatto finora per far sì che le riforme portino a una nazione che sia più in mano al popolo che alla partitocrazia, che è l'opposto di quello che sta facendo Renzi. Quindi proporremo, come sempre, tutte le nostre modifiche per far sì che il Senato sia eletto dai cittadini, anziché essere nominato dalla politica, che la Costituzione italiana abbia finalmente quei meccanismi di democrazia diretta che oggi non ha, sostanzialmente l'opposto di quello che vuole Matteo Renzi, che sta cercando di mettere su di sé più potere possibile per non essere mai calciato via da questo palazzo, ma col potere che si è costruito con i suoi soldati del Partito Democratico che stanno con la loro poltroncina comoda. Dunque non andrete in sostegno delle riforme e del premio? Credo proprio di no perché le riforme non vanno in sostegno del popolo italiano e noi siamo sempre a favore del popolo italiano. Bene, se non avete domande qui da Montecitorio ringraziamo Maglio Di Stefano.